L'influenza comincia a fare paura. Dopo i tre decessi di ieri, di tre persone di 77, 76 e 62 anni, a causa dell'influenza stagionale, è allarme. E anche oggi si registra un decesso. A perdere la vita è stata una donna di 78 anni, originaria di San Cesario, che è risultata positiva al test dell'H1N1. La donna era ricoverata da dicembre, non aveva effettuato il vaccino antinfluenzale ed era pluripatologica. Soffriva infatti di cardiopatia ischemica, diabete, ipertensione e insufficienza renale. Era ricoverata nel reparto di medicina, ma è stata trasferita nel reparto di rianimazione per una insufficienza respiratoria, hanno fatto sapere dall'ASRE di Lecce. Ad oggi i casi accertati di H1N1 sono otto, dice Giovanni Gorgoni, commissario straordinario ASRE Lecce. In altri sei casi siamo in attesa di risposta da parte dell'Istituto di Igiene di Bari. Rinnoviamo l'invito ad effettuare la vaccinazione. Il vaccino in uso è disponibile presso i medici di medicina generale, copre diversi ceppi influenzali e incluso l'H1N1. In Puglia non abbiamo ancora toccato il picco influenzale e potrebbe crescere ancora il numero dei ricoveri per le conseguenze dell'influenza. In considerazione dello scarso numero di adesioni alla vaccinazione antinfluenzale, l'ASRE ha deciso di protrarre per un altro mese la campagna di vaccinazione. Ricordiamo che l'allarme creato nei mesi scorsi dal temporaneo ritiro cautelare di un lotto di vaccino è subito dopo rientrato. L'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità hanno confermato la sicurezza del vaccino antinfluenzale ed esortato la popolazione a vaccinarsi, ha spiegato il direttore del SISP di Lecce, Alberto Fedele. Nessuna delle tre persone morte ieri era stata sottoposta a vaccinazione ed erano tutti affetti da altre patologie. I tre erano ricoverati degli ospedali San Paolo di Bari, Miuli di Acquaviva delle Fonti e Vito Fazzi di Lecce. Altre 25 persone sono ricoverate in centri di rianimazione degli ospedali pugliesi per sintomi influenzali. Nessuno di loro si è vaccinato. Sinora sono stati circa 120.000 i pugliesi, riferisce la responsabile dell'osservatorio epidemiologico regionale Cinzia Germinario, colpiti dall'influenza. In questi giorni circa 36.000 persone, spiega, sono influenzate. Abbiamo raggiunto il picco? Per affermarlo dovremo attendere la prossima settimana, noi lo speriamo. Certo, conclude, se non ci fossero state tutte quelle informazioni sbagliate sul rischio vaccino, non ci sarebbero state tante vittime e tanti malati gravi.